www.radiosiani.com, siamo in compagnia di Giacomo Giorgio, giovane attore tra le nuove promesse del cinema italiano. Ciao Giacomo, benvenuto ai nostri microfoni. Ciao, grazie, grazie a tutti per l'invito e sono molto contento di essere qua con voi. Noi siamo felicissimi di averti qui. Allora Giacomo, ci vuoi raccontare un po' la tua esperienza, da dove nasce la tua passione per il teatro? Ho letto un po' sul web per il cinema, come ti sei trovato a partecipare, mi domandavo, ad un film con attori internazionali di successo come Rupert Evert, Colin Firth, parliamo ovviamente del film The Happy Prince. Sì, beh, allora la mia passione per il teatro nasce da molto giovane, avevo cinque o sei anni e avevo visto questo spettacolo che era a Napoli, che era Miseria e Nobiltà. E mi ricordo, proprio come se fosse adesso, l'emozione incredibile che avevo, che stavo vivendo, che avevo vissuto durante tutto lo spettacolo e poi in particolar modo quando è finito lo spettacolo, quindi al momento del sipario e dei saluti, è stata una specie di schiaffo, ve lo ricordo come schiaffo, nel senso che tu sei per due ore, un'ora e mezza, dentro questa bolla strana, che vedi questa specie di marionette che però sono esseri umani, al buio e quindi sei in un luogo con delle altre persone, però sei anche da solo. Entra in gioco la tua fantasia, le tue emozioni, le tue paure, mi ricordo che mi batteva fortissimo il cuore. E poi a un certo punto, boom, schiaffo, sipario, torni alla realtà, escono fuori gli attori e tu dici, ma allora erano attori? Cioè, ma questo è il vero volto di quel personaggio? E mi ricordo che era un'emozione, cioè col teatro in Standing Ovation, cioè era proprio un'emozione, veramente la saprei rivivere adesso. Un colpo di fulmine, no? Un colpo di fulmine, e quindi lì ho detto, no, voglio, devo assolutamente stare dall'altra parte, voglio vedere dall'altra parte che cosa si prova. E quindi da lì, diciamo, non ho più smesso. Il film, prima io avevo cominciato col teatro, con piccole cose a teatro, sia ovviamente amatoriali e poi un po' più grandicello, professionali, piccoli ruoli, chiaramente parliamo. Poi sono stato anche molto fortunato, perché fino all'età di nove anni ho vissuto a Napoli. E quindi diciamo che l'infanzia a Napoli mi ha dato l'anima e l'emotività del napoletano. La passione, no? L'amore è proprio l'emotività di Napoli in questo. E poi dai nove anni, fino più o meno ai 18-19, quindi dieci anni, il periodo totale dell'adolescenza a Milano. Quindi proprio gli antipodi. E devo dire che nonostante non sia stato facile, però l'adolescenza a Milano mi ha fatto un altro regalo. Nel senso che con l'anima, diciamo con l'emotività del napoletano, a Milano devo dire ho imparato molto il senso della bellezza. Ecco, il senso della critica, il senso dell'estetica. Brera soprattutto mi ha dato questo. E quindi diciamo queste due entità opposte che però hanno fatto parte della mia crescita, devo dire che sono stato alla fine molto fortunato e molto grato. E in quel periodo, che ero a Milano, che studiavo recitazione. Dove hai studiato? Io ho studiato, vabbè, a parte il teatro, ho il metodo Stanislavski, che per cui è un metodo prima russo e poi divenuto americano. Quindi stiamo parlando di un metodo fine 800, inizi 900, che poi è arrivato a noi. E che è il metodo, diciamo, divenuto celebre per l'actor studio, per tutti gli attori che hanno fatto poi la storia del cinema, uno su tutti, Marlon Brando. e che poi è stato portato avanti nel tempo da diversi insegnanti. Io principalmente l'ho conosciuto con Michael Margotta, che è un insegnante, che è stato anche insegnante, membro dell'actor studio, ha insegnato la lista Asberg, a Milano. E poi da Milano sono passato a Roma, dove ho incontrato Francesca De Sapio, che è un'altra insegnante del metodo, oltre ad essere una straordinaria attrice, in una scuola che si chiama Duse International. E poi ho incontrato Susan Batson, che è una grandissima insegnante di New York, nella figura soprattutto di Beatrice Pelliccia, che è stata una sua allieva, una sua insegnante anche della scuola italiana, e che, devo dire, diciamo lei, ecco, ognuno di questi insegnanti parte dalla radice del metodo puro, e poi c'è chi mantiene questo purismo, e c'è chi dà invece una sua personale identità. Sì, diciamo così, aggiunge delle cose, ecco, e devo dire che Susan Batson è stata, è forse, è stata una degli insegnanti più, più, diciamo, che mi ha più aiutato a tirar fuori delle cose che ancora non avevo sperimentato, non avevo ancora considerato nella recitazione, perché lo fa in una maniera tutta sua, e anche in Italia poi ho continuato, ovviamente, purtroppo, diciamo, online, nel senso in videochiamata, però ecco, è stato un percorso che non ho, non ho lasciato, così come quello di Michael, Michael è un altro, è un grandissimo insegnante, e quindi mentre studiavo con Michael a Milano e così avevo iniziato a cercare un'agenzia per il cinema che mi potesse aiutare a fare qualche film che mi potesse rappresentare e mandare fondamentalmente a fare qualche provino, faccio questo provino per The Happy Prince, che è questo film per la regia di Rupert Everett con Rupert Everett anche protagonista e nel cast Colin Firth, Tom Wilkinson, Emily Watson, Colin Morgan, insomma, un cast mostri del cinema statunitense, anglosassone, mostri assoluti del cinema, tra l'altro Colin Firth aveva già vinto l'Oscar per il discorso del re, quindi proprio insomma una cosa pazzesca e io lo andai a fare ma così anche un po' come dire sotto gamba se vogliamo non ero consapevole di quello che stavo andando a fare, tra l'altro mi ricordo che era luglio, era il 27 o 28 luglio, quindi ero in vacanza, avevo 17 anni, stavo andando in vacanza e soprattutto nella mail dell'agenzia non c'era scritto che il film era di Rupert non c'erano scritti questi nomi, c'era scritto un film americano, quindi vabbè lo vado a fare prima di andare in vacanza e mi trovo al San Carluccio, l'ho fatto a Napoli e mi trovo dietro la tendina Rupert Everett per cui ho detto insomma che cos'è uno scherzo di cosa stiamo parlando e mi è venuto un colpo che mi ha fatto fare come prima cosa un'improvvisazione e io non sapevo minimamente come metterci le mani cioè ho fatto questo provino ma non lo ricordo di come l'ho fatto nel senso il primo pensiero che ho avuto e ora come recito è impossibile feci questo provino e poi e poi niente ne ho fatto ne ho fatti un altro paio nel mese di agosto e poi a settembre è arrivata una telefonata incredibile che avevo preso avevo vinto il ruolo chiaramente stiamo parlando di un piccolo ruolo una prima cosa però in un grande film però però in un grande film che comunque mi ha permesso di vedere non solo di recitare delle scene con questi attori ma anche di poterli vedere e quindi abbiamo fatto tre o quattro giorni che in gergo si dicono pose in Germania poi a Napoli perché il film diciamo è incentrato sulla vita di Oscar Wilde ma in particolar modo sugli ultimi quattro anni della sua vita e quindi il periodo poi napoletano e quindi che ti devo dire è stato proprio un esordio con col botto quindi si può dire che tu hai varcato le soglie di un palco e lì c'è stata la tua ribalta eh sì nel senso che c'è stato c'è stato c'è stata un essere catapultato in un qualche cosa che non avevo minimamente idea potesse essere così come è successo anche sul palco di Sanremo sei stato anche lì giusto? è stato ospitato tutto il cast di Marefuori sì sono stato al festival di Sanremo è una cosa incredibile guarda io non non saprei dirti cioè nel senso con Marefuori sono due anni che io e gli altri insomma gli altri miei compagni stiamo vivendo delle cose incredibili insomma il palco del Larisson è uno dei palchi più importanti del mondo la giornalista Francesca Fagnani ha interpretato un monologo dove appunto ha parlato di ragazzi del carcere di Nisita ecco mi chiedo quanto è importante che queste storie che spesso sono state messe da parte vengano appunto raccontate finalmente ad un pubblico così ampio eh guarda secondo me è molto importante nel senso che Marefuori è stata la dimostrazione che la televisione di stato quindi la Rai poteva assolutamente dare un giro di chiave a quello che è il prodotto poteva in qualche modo fare una serie più scomoda fare una serie teen fare una serie che se vogliamo ha più dei tratti ehm da piattaforma ha più dei tratti internazionali perché non è per niente rassicurante tu pensa a Marefuori l'artista lasciamelo dire sì tu pensa pensa a Marefuori uno primo episodio nei primi dieci minuti viene accoltellato uno un personaggio cioè capisci allora tu in Rai allora tu cominci così e dici bene o facciamo flop definitivo oppure questa roba può essere qualcosa di diverso e devo dirti che sono stato felicissimo che innanzitutto che la Rai abbia deciso di fare una roba del genere e mi abbia dato la possibilità di fare una cosa del genere ma sono contento proprio di averla fatta perché in qualche modo è stato segnato un punto di non ritorno nel senso che da qui poi ci può essere tanto altro di bello tornando alla tematica dimmi no dico la tematica è chiaramente tutti i film e tutte le serie sono belle qualunque cosa dicano perché tu interpreti il mondo però nel caso di Marefuori c'era anche il peso e la responsabilità di parlare e di portare sullo schermo diciamo la vita di alcuni ragazzi sfortunati che non possono essere giudicati ma non possono neanche essere giustificati per quello che hanno fatto quindi diciamo questa inconsapevolezza ecco attorno a queste persone ma la cosa più bella e anche se vogliamo un po' politica era quella di raccontare il vuoto che lo Stato lascia intorno a quelle persone che è stata secondo me una responsabilità enorme che abbiamo percepito abbiamo sentito durante la realizzazione e speriamo di esserci riusciti l'immagine che meglio poteva descrivere questa cosa che ci dia del regista della prima stagione Carmine Elia era immaginiamo di essere in un parco su una panchina questa panchina è occupata dalla malavita e tutto intorno a questa panchina con questo vuoto è il vuoto che lo Stato lascia intorno a quelle persone dove poi oltre c'è il mondo cioè il mare fuori non è il mare fuori dalla finestra solo perché tu guardi e vedi il mare fuori non è manco per niente una cosa del genere è il mare fuori è il mondo che c'è fuori che è infinito che è bello è brutto è tempestoso è rilassante è com'è la vita che però tu non lo puoi toccare non ci puoi arrivare perché perché c'è un vuoto e questo vuoto è il vuoto che lo Stato ti lascia e che però viene colmato dalla malavita molto forte questa similitudine ecco arriviamo proprio adesso a questa serie Rai mare fuori che ha fatto impazzire avete fatto impazzire tutti dai più grandi ai più piccini mi chiedevo durante questa preparazione perché c'è sempre giustamente nei cast più grandi negli attori professionisti una grande e me lo puoi confermare preparazione alle spalle per i ruoli che vanno ad interpretare ecco voi avete avuto mi chiedo un'esperienza diretta con questi minori che vivono questi percorsi di detenzione e se sì che tipo di sensazione ti ha lasciato questa esperienza sicuramente questo ci tengo a dire questo è un mestiere non si fa a caso è un mestiere che richiede enorme studio è un mestiere difficilissimo perché tu pensa che uno va dallo psicologo per conoscersi no? quando uno ha dei problemi vai dallo psicologo e lo psicologo ti aiuta a conoscerti un po' meglio ecco pensa che un attore interpreta un altro essere umano cioè pensa la pazzia di questo di questo mestiere no? e quindi ovviamente non è che non si può fare così dalla sera alla mattina ci vuole studio e anche laddove c'è talento scusami posso fare questa precisazione perché un lavoro doloroso lo è può darsi non so se è per tutti o no però sicuramente anche laddove c'è talento deve essere nutrito assolutamente dallo studio perché altrimenti il talento muore esatto perenne esattamente e invece non capisco il motivo per il quale è un lavoro che in qualche maniera lo fanno tutti cioè i cantanti fanno gli attori i presentatori fanno gli attori e gente che non ha mai fatto niente è un mestiere che ormai è stato aperto diciamo così alla merce tornando alla preparazione quindi tornando a questa a questa cosa che non capisco perché abbiamo avuto tutti una lunga preparazione perché c'era anche chi non era napoletano e quindi ha dovuto fare un lavoro sulla lingua c'era chi come me insomma appartiene proprio agli antipodi rispetto agli antipodi rispetto a quello che ha interpretato e quindi c'era da entrare e conoscere bene quel tipo di mondo quel tipo di ragionamento quel tipo di mentalità quel tipo di gestualità e di atteggiamento fisico atteggiamento temporale no? se tu vedi se tu vedi i personaggi come Ciro o comunque prendiamo a caso Ciro sono persone che danno un tempo quando parlano è come se conducessero il tempo del discorso di quello che accade insomma tutte queste cose sono state motivo di forte studio in particolare alcuni di noi non tutti sono stati anche a visitare il carcere l'IPM di Nisi davvero tu l'hai fatto? io l'ho fatto sono stato e devo dire che è stato fondamentale perché che mi sono portato e l'ho fatto a metà delle riprese metà delle riprese quindi ero anche un po' terrorizzato dal dire chissà se sto andando nella direzione giusta o se ho toppato completamente e invece devo dire che sono rimasto parecchio sorpreso e contento perché secondo me avevamo preso la direzione giusta ed è anche una giornata che io non mi dimenticherò mai più perché innanzitutto ho sentito paura paura perché cosa che io sono stato anche nel senso che io sono stato anche in un carcere normale per adulti e lì non ho avvertito paura perché lì anche se tu parli e guardi delle persone che hanno una carriera criminale molto più grossa però in qualche modo tu parli con delle persone consapevoli parli con delle persone consapevoli che ti dicono questo è il mio mestiere tu c'hai il tuo mestiere abbiamo due vite diverse insomma non percepisci che da lì da un momento all'altro possa accadere qualcosa invece a Nisida purtroppo ho visto un grande vuoto negli occhi di questi ragazzi cioè proprio tutti perduti e c'era quest'aria capito come se fossero stati degli animali in gabbia e quindi da un momento all'altro poteva poteva accadere qualcosa capito e quindi io ho sentito quest'ansia continua però ci sono state anche poi delle cose molto belle per esempio questa la racconto perché è molto bella noi eravamo entrati non come attori di mare fuori cioè che stavamo facendo una serie su di loro ma eravamo entrati per fare perché loro stavano facendo il laboratorio su teatrale su Giulietta e Romeo e quindi eravamo entrati come attori che potevano dare dei consigli per fare Giulietta e Romeo e per provare una scena allora c'era noi facciamo vedere più o meno le cose la scena c'era il ragazzo che doveva fare Romeo che dopo averla fatta noi gli diciamo vieni prova tu no? e lui davanti a tutti ovviamente si rifiuta e dice ma assolutamente no e soprattutto questa è una cosa da omosessuali non ha detto omosessuali l'ha detto in una maniera molto più scorretta va bene ovviamente non abbiamo pressato la la sua volontà non abbiamo contrastato la sua volontà dopo finito il corso io esco da questo edificio dove eravamo verso il campetto perché anche lì c'è un campetto vero dove i ragazzi diciamo fanno l'ora l'ora d'aria e mi accendo la sigaretta e mi accorgo che dietro la colonna dell'edificio c'era lui quello che doveva fare Romeo col foglio con le battute a provarsi le battute da solo di nascosto e questa è stata un'immagine meravigliosa super commovente e che tra l'altro ti fa capire l'importanza e il potere che ha questo mestiere e quindi ecco questa cosa la ricordo con molto affetto così come ricordo con molto affetto anche l'incredibile attaccamento alla vita che loro avevano cioè le domande principali erano ma tu ce le hai le adidas ma ce l'hai il profumo e che profumo usi e che fai stasera vai a ballare e domani vai al mare cioè erano questo tipo di domande di una volontà di vivere di divertirsi incredibile incredibile così come dicevi no così come ho visto anche un detenuto che poteva essere più simile al mio personaggio infatti tu nella serie Rai Marefuori interpreti il figlio di un boss tra l'altro ci tenevo anche a dire che non è colpa di questi ragazzi ecco come tu dicevi prima non li vogliamo giustificare però non è colpa loro se nascono in determinati contesti e tante volte si ritrovano a dover vivere quella vita ecco poi mettersi contro le proprie famiglie deve essere tosta poi quali famiglie quindi non li vogliamo difendere però sicuramente immedesimandoci fa male è tosta come è un tema veramente delicatissimo interpreti nella serie il figlio di un boss appunto Ciro Ricci che è a capo di una gang giusto di ragazzi all'interno del carcere diciamo senti la responsabilità che di aver insomma trasmesso che il tuo personaggio abbia trasmesso dei messaggi negativi insomma ai più o pensi che proprio nel contesto della serie il cattivo serva in qualche modo ovviamente non sento alcun tipo di responsabilità perché il cinema deve essere scevro da quello che genera nel sociale perché altrimenti la storia del cinema andrebbe all'altro mondo nel senso che allora il padrino è sbagliato allora scarface è sbagliato allora untouchable è sbagliato è tutto sbagliato invece una gran fetta della storia del cinema si occupa di raccontare il male quindi poi quello che genera nel sociale non potrà mai essere come togliere il fumo dal cinema come togliere le sigarette ma che togli le sigarette sono una storia del cinema se tu pensi a Casablanca con Humphrey Bogart senza le sigarette è un altro film ma così però induci la gente a fumare ma non è vero tu ti occupi di raccontare una storia in un periodo poi quello che accade intorno purtroppo il cinema deve essere scevro da questo non è educativo ecco il cinema è rappresentativo e anche presentativo questa è una cosa di Jutagen sugli attori vabbè ma comunque non può essere educativo altrimenti diventa un'altra storia altrimenti può diventare un documentario ma già la parola recitazione citare quello che è già stato citato soprattutto il play anglosassone il gioco insomma non si può pensare che il cinema sia una cosa educativa nello specifico di Marefuori tra l'altro io penso che il mio personaggio non abbia lanciato dei messaggi negativi ma anzi anzi proprio perché non è una serie che si occupa di raccontare il male ma è una serie che dice che il male in realtà il male assoluto il male fine a se stesso non esiste nasciamo tutti uguali e poi purtroppo ognuno di noi cresce in un contesto con una famiglia con un esempio con quest'altra cosa e allora puoi diventare in un certo modo e il mio personaggio racconta non quanto è fico essere cattivi ma racconta quanto è sbagliato tant'è che muore tant'è che dice tu se vivi così fai quella fine la parola cattivo deriva dal latino captivus che significa prigioniero quindi Ciro che è il più cattivo di tutti ma è il più prigioniero di tutti e quindi per risponderti alla domanda sì c'è bisogno dei cattivi perché altrimenti non ci sarebbe sceneggiatura non ci sarebbe scrittura c'è un altro tipo di cosa il cattivo va raccontato dipende come lo racconti se tu racconti il male fino a se stesso lo puoi fare ma è penso un'operazione poco interessante inutile non vedo cosa ci sia di interessante se però tu racconti il bene il male racconti il bene che può diventare male pensa al personaggio di Carmine Carmine per difendere la fidanzata che stava per essere violentata uccide con otto forbiciate una persona quindi un personaggio positivo viene catapultato in un mondo negativo rifiuta la famiglia che però continua a inseguirlo qui non c'è il bene assoluto è un bene che sbaglia Ciro cattivo apparentemente cattivo totalmente inconsapevole totalmente vittima del padre e infatti fa la fine che fa chiattillo che è il pubblico se vogliamo è il mezzo con il quale il pubblico entra dentro il carcere no? figlio di papà musicista cresciuto per bene e tutto quanto pasticca amico morto insomma il concetto è che l'importante la differenza secondo me è il personaggio non è il bene o il male fino a se fini a se stessi perché non esiste né il bene assoluto né il male assoluto esiste l'umanità e l'umanità per fortuna permettimi di dire è piena di sfumature questo grazie per queste parole non volendo hai trasmesso comunque un messaggio oggi restando sempre a Napoli da poco si è conclusa Napoli città libro il salone del libro e dell'editoria dove abbiamo avuto il piacere di conoscerci ecco abbiamo scoperto che a breve darai vita al personaggio di uno dei libri presentati quello di Michele Zatta forse un altro dirigente Rai Fiction ci vuoi raccontare un po' questa tua prossima avventura no oddio non lo so questa è un'idea primordiale per cui è stata detta questa cosa vediamo se mai accadrà quello che ti posso dire è che nel frattempo a parte che Michele Zatta oltre che essere il dirigente di Rai Fiction il capo struttura di Rai Fiction è anche una una persona incredibile è un artista incredibile ed è una persona diciamo alla quale io devo tanto e alla quale voglio molto bene perché abbiamo un rapporto di stima e un rapporto fraterno detto ciò penso che lui abbia scritto un capolavoro di libro e quindi è già da un annetto insomma già dall'anno scorso anche quest'anno e spero che insomma il percorso sia sempre più lungo e gli auguro che possa diventare appunto una pièce teatrale un film o quello che sarà mai dire mai mai dire mai ma sicuramente io lo accompagnerò con il viaggio di forse un altro sia per la stima ma sia anche per il prodotto che ha fatto questo libro diciamo è riuscito secondo me a mettere la vita la vita la vita di tutti i giorni insieme però all'incredibile al fantasy cioè al al surreale quindi è riuscito a mettere queste due componenti insieme dentro un personaggio che si chiama Mike Craft che è il protagonista del libro e anche il personaggio che ha una linea cioè è un personaggio vero e proprio però è tutti noi cioè tutti noi siamo Mike Craft tutti noi possiamo essere Mike Craft in determinati momenti e al cospetto di personaggi che poi nel libro hanno una forma vera e propria al cospetto del destino al cospetto della vita al cospetto della morte al cospetto della verità cioè lui è riuscito a prendere quelli che sono probabilmente dei momenti nostri della vita quando pensiamo alla morte quando pensiamo al destino è riuscito a creare un incontro tra il personaggio e questa entità dando poi una sua visione che io trovo geniale che è quella del racconto se vogliamo anche un po' filosofico o un po' pirandelliano un po' anche se vogliamo drammatico e malinconico ma lo fa sempre con un'incredibile autoironia e autocomicità tra l'altro Michele raccontava ai nostri microfoni che ci ha impiegato trent'anni per scrivere questo libro quindi le tue parole quello che racconta lui già questo libro va letto assolutamente se tutti noi possiamo ritrovarci nei panni di Minecraft beh io penso proprio di sì nel senso che io da attore sono abituato diciamo quando leggo una cosa ma proprio come forma mentis di immaginarmi quello che sto leggendo cioè immaginare me dentro quello che sto leggendo dentro il personaggio con il quale sto avendo a che fare un'immedesimazione automatica quindi un'immedesimazione diciamo automatica chiaramente nel mio nel mio pensiero quando leggo sul divano però ecco non è sempre possibile non è sempre possibile non è sempre facile nel caso di Michele è filosoficamente complicato quello che dice ma è facilissimo cadere nell'empatia con quel personaggio e quindi io penso che abbia scritto assolutamente io penso che oltre al fatto che Michele è diciamo colui che ha inventato se vogliamo un posto al sole la serie probabilmente più longeva del mondo mare fuori quindi ecco non ha bisogno lo posso confermare d'Europa sicuro te lo posso confermare d'Europa sicuro un posto al sole non facevi sì no e quindi dico Michele non ha bisogno insomma di presentazioni di bravura no quindi oltre ad essere geniale in quello che fa è anche geniale in quest'altra perché è un artista ecco fondamentalmente e quindi quando una persona è un artista oltre che ad essere proprio una brava persona pura di sentimenti cosa che il libro è questa è un'altra caratteristica no ci sono alcuni libri che sono come alcuni film no che sono molto freddi molto cioè magari ti raccontano qualcosa che a te piace però tengono sempre una certa distanza guardano da lontano invece tutto quello che Michele tocca è impregnato di emozione è impregnato di sentimenti e questo è come dire penso sia la cosa più difficile però la cosa più bella grazie Giacomo grazie per essere stato ospite ai nostri microfoni è stato veramente un viaggio questo racconto grazie grazie a voi spero di non aver annoiato nessuno ma sicuramente no a giudicare dalla mole di fan che avete sicuramente no ricordo bene quanti selfie hai dovuto fare autografi firmati domande gente che piangeva non lo dimenticherò e che non ti dica che io non mi fermo a fare le foto no sei anzi gentilissimo su questo quindi ragazzi e ragazze all'ascolto quando incontrate Giacomo fermatelo perché lui è disponibilissimo grazie mille Giacomo un ringraziamento grazie a voi grazie a voi e e tanti complimenti a questa radio grazie mille ringraziamo anche la redazione noi ci rivediamo presto sulle nostre frequenze www.radiosiani.com ciao